Permettetemi appunto di ringraziare voi per esserci ancora e di ringraziare anche la Presidente della Provincia e il Sindaco Merola che come Presidenti del Comitato Promotore del Piano Strategico, il Comitato Bologna 2021, mi hanno fatto l'onore di mettermi in questa carica. Dopo una giornata fatta di sfide, di asticelle alte, come è stato detto, il mio è necessariamente il momento della concretezza e delle scelte che sono state fatte qui. E credo che questo sia comunque un momento per questa ragione importante. Cercherò di essere breve e di spiegare che cosa intendiamo fare attraverso cinque punti, così avete anche un po' come dire la scaletta del mio intervento. Che cosa intendiamo noi per piano strategico? Che cosa caratterizza il piano strategico di Bologna? Quali saranno gli ambiti su cui eserciteremo la pianificazione strategica? Come si svolgerà il procedimento? Quale sarà il metodo? E infine quali sono gli esiti e quali sono le criticità che ci aspettiamo da questo processo? Innanzitutto iniziamo col dire che la pianificazione strategica è lo strumento, la pratica di partecipazione più complessa e articolata che i paesi occidentali abbiano messo a punto negli ultimi venti anni. Faccio data a partire dal Government Performance and Result Act approvato nel 1993 dal governo degli Stati Uniti d'America. Ed è importante che ci fermiamo almeno un attimo a ragionare su che cos'è partecipazione, su che cos'è pratica partecipativa. Dobbiamo dire subito una cosa, le pratiche partecipative, la partecipazione si manifesta in un momento diverso da quello della legittimazione elettorale della democrazia rappresentativa. Questa è la fase ascendente dei modelli democratici. Non si contrappone a queste legittimazioni ma diversamente integra la fase discendente, la fase di governo, la fase delle scelte. Quindi rappresenta una manifestazione, una forma, un canale in più che si ha per governare. Inoltre parlare di partecipazione secondo me ha senza dubbio, sono un amministrativista, il significato di rappresentare l'opposto logico di unilateralità e di forza, di autorità. Partecipazione significa condivisione, significa discussione, significa confronto. E permettetemi anche di dire che è anche l'opposto di segretezza. I procedimenti di partecipazione sono per loro natura trasparenti, aperti, si fanno vedere, si fanno conoscere. In Italia siamo arrivati più tardi, non abbiamo cominciato vent'anni fa, abbiamo cominciato nel 2010 con Torino. Un'esperienza di pianificazione strategica condotta fra gli altri dal professor Roberto Camagni che è nel comitato scientifico che mi onoro di presiedere e diciamo la sua presenza per noi è molto molto importante e ci onora. Quindi ha cominciato Torino. Da allora 40 comunità si sono dati piano strategico. Città, gruppi di città, province, con fortune alterne. Perché una cosa dobbiamo dire dei piani strategici, non sono previsti per legge. Non c'è un modello teorico nelle norme. Il piano strategico si confeziona, si struttura e si sviluppa in ragione delle specificità dei territori. Cerca di cogliere la specificità del luogo in cui prende vita. Per cui, nonostante tanti sforzi, ricostruire quali sono i tratti che accomunano i piani strategici non è operazione facile. Cerco di riassumervelo in tre punti, velocissimamente. La pianificazione strategica è un processo di progettazione ad ampio spettro. Tocca tutte le politiche locali rilevanti allo stesso tempo. Quindi, si pone come obiettivo sia quello di tracciare il solco dell'innovazione, dello sviluppo, il senso del futuro per ognuno di questi settori, sia di saper cogliere, ed è stato detto molto bene stamattina da diverse delle persone che hanno parlato prima di me, le trasversalità positive, le reti, non è uguale progettare un sistema di welfare in sé e progettare un sistema di welfare insieme al sistema culturale, ce l'ha insegnato poco fa il professor Sacco. Non è uguale, dà risultati straordinariamente diversi. Per cui possiamo dire che la pianificazione strategica è multisettoriale e intersettoriale. Secondo, la pianificazione strategica è una scelta, lo ripeto, non lo impone nessuno e già questo è significativo. È una scelta che un'amministrazione, a mio giudizio, forte, decide di fare. È una scelta che in questo caso 61 amministrazioni territoriali forti intendono fare, 60 è la provincia. E ancora, è una scelta di coralità. Ho usato diverse volte, quando ho parlato in questi giorni con molte associazioni, imprese, la parola sinfonia. Il piano strategico è una sinfonia. Quindi possiamo dire che il piano strategico è volontario e plurale. E poi ragioniamo ancora un attimo sul termine strategico, perché questo per l'Italia è davvero un unicum. Succede rarissimamente. Ci sono pagine e pagine di studiosi, di giuristi, che esaminano la legislazione di emergenza. È tipico in Italia legiferare, rispondere per legge all'emergenza, all'improvviso. Il piano strategico è strategico. Il piano strategico fissa l'approdo e dà le soluzioni ad oggi guardando all'approdo a cui vogliamo arrivare domani. Non improvvisa le selezioni per la contingenza e per la specificità di alcuni problemi. Si occupa del medio periodo e del generale. E che cos'è che caratterizza invece il piano strategico di Bologna? Che cos'è che lo rende unico? L'abbiamo detto, nessuno è uguale agli altri. Innanzitutto la sua dimensione effettivamente metropolitana. Testimoniata anche da come si è costituito questo comitato promotore. Il piano strategico metropolitano coinvolge allo stesso tempo la provincia di Bologna, il comune di Bologna e gli altri 59 comuni presenti sul territorio. E lo fa lanciando, lo riprenderò alla fine, una sfida non secondaria. Quella di costringere gli attori che siederanno attorno ai tavoli a ragionare in questa dimensione. Sapendo cogliere quindi dinamiche, il professor Oriol parlava di geografie, lo sa fare molto meglio di me naturalmente, sapendo cogliere geografie che sono geografie del reale, non quelle tracciate sulle mappe. Sapendo cogliere dei processi che altrimenti sfruggerebbero la nostra capacità di governo. E questo lo facciamo mentre, è stato già ricordato, c'è una riflessione sul governo delle funzioni di livello intermedio da parte del governo. La seconda caratteristica è quella di essere dato per scadenze, 5, 10, 20 anni, in ragione dell'urgenza e in ragione della complessità dei progetti che vogliamo realizzare. Noi ci diamo un'agenda. Terzo e ultimo punto che ho, che penso sia importante mettere in evidenza con voi, è che, anche questo è già stato anticipato, il piano strategico di Bologna è un piano strategico in tempo di crisi. Non è un piano strategico che parte perché c'è un evento speciale, lo ricordava il Presidente Prodi. Non è un piano strategico che parte, come è successo negli anni passati, sulla base di un finanziamento del governo. Noi non partiamo perché abbiamo risorse straordinarie, inattese da dividere. Noi partiamo perché vogliamo diventare un territorio attrattivo per risorse future. E capite che questo cambia significativamente il baricentro della progettazione. Siamo, d'altra parte, convinti, e passo a raccontarvi ambiti e metodo, siamo altresì convinti, lo insegnava Norberto Bobbio, lo diceva Kelsen, che qualunque momento, diciamo, di progettazione democratica di fatto si riduca a procedimento, allo studio del miglior procedimento possibile. Allora io non ho la pretesa che noi abbiamo fatto, stiamo costruendo il miglior procedimento possibile, ma credetemi, è lo sforzo che stiamo facendo da diversi mesi, tutti assieme, per cercare davvero di fare un processo che sia su misura per le esigenze di questo territorio. Quindi ci si è posto il tema di se e come regolare questo procedimento. Sul se. Diciamo così, davanti a un futuro così complesso, la nostra ambizione non è quello di semplificare, non è quello di, come dire, sfilare pezzi di questa complessità, abbiamo invece l'ambizione di costruire uno strumento in grado di scartare davanti agli ostacoli e di portarci a casa. Lo voglio dire con una certa chiarezza perché questo stamattina è stato, secondo noi, è importante la destinazione del piano strategico, è importante dove ci porterà, ma vi assicuro che è altrettanto importante il viaggio che faremo, perché ci insegnerà un metodo, ci insegnerà come lavorare assieme. Non è importante soltanto l'approdo, è importante anche se si viaggia comodi e se si è accolti e, diciamo, curati in i balconi di questo treno. Quindi noi non abbiamo la pretesa di semplificare, ma diversamente abbiamo assunto la flessibilità del nostro percorso e anche la capacità di differenziare nei diversi tavoli, nei diversi luoghi che nasceranno, le regole del gioco. Noi abbiamo pensato che fosse più importante fissare dei principi piuttosto che dei precetti. Per questo abbiamo immaginato il piano strategico, passando al come, come un processo molto ampio, sapete tutti i numeri, un processo molto ampio e molto aperto, davvero aperto, che, messe a punto alcuni assi fondamentali, pochi, che ci conducano alle parole d'ordine, tu hai usato per tutt'oggi l'idea delle parole chiave, che ci conducano a quelle parole chiave, però questi solchi devono essere talmente fertili da saper accettare anche lo straordinario patrimonio di creatività e di microprogettazione della cittadinanza attiva. Noi sappiamo che ci sono grandi assi, grandi partite su cui non giocheranno tutti, ma sappiamo che nel solco di quelle scelte tutti potranno essere presenti. Questa è stata la nostra scelta regolativa essenziale. Quindi potete davvero immaginare che noi alla fine avremo due risultati. Un risultato, vorrei dire, è una sfida di orgoglio, di essere di nuovo ambiziosi, quindi di avere di nuovo grandi idee, una grande visione verso cui ci muoviamo, ma anche un altro piano, il piano dell'orgoglio, dell'appartenenza, del senso di civismo di questo territorio, che d'altra parte l'ha sempre caratterizzato e che si costruirà attraverso l'effettiva partecipazione e l'effettiva selezione dei progetti che ci verranno presentati. I soggetti di questo processo che ci attende, li conoscete tutti, riprenderò brevemente alla fine questo tema. Però tutti sapete che ci sono tutte le istituzioni pubbliche, territoriali e non, ci sono le grandi associazioni economiche, ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono molte associazioni di cittadini che hanno idee da proporre. Invece forse è più importante, perché ancora non è stato fatto, che oggi qui vi ricordi quali sono gli ambiti. Noi abbiamo deciso, in questo caso sì, di razionalizzare la complessità e l'abbiamo razionalizzata attorno a quattro ambiti, che sono i quattro ambiti che poi corrispondevano, se volete, alle materie, ai temi a cui si sono dedicati i nostri lecturers stamattina. I quattro ambiti, ognuno di questi quattro ambiti, è un capitolo di un libro che possiamo articolare in paragrafi. Il primo capitolo, quello dell'innovazione e dello sviluppo, comprende i capitoli delle filiere produttive, della competitività, della tecnologia e dell'innovazione e della creatività. Il capitolo su educazione, istruzione e cultura contiene il tema, il paragrafo dedicato alla cultura stessa, alla formazione universitaria e alla scuola e alla formazione professionale. Il capitolo dedicato al territorio, diciamo, ambiente, assetti urbani e mobilità, contiene il paragrafo sull'ambiente, il paragrafo sulla mobilità, il paragrafo sulla qualità urbana, territoriale e le politiche della casa. E infine, il capitolo sul benessere e la coesione sociale, contiene il paragrafo dedicato alla salute, al sistema sanitario e alla ricerca sanitaria, è stata evocata tantissime volte oggi, contiene il tema del welfare e delle nuove povertà, contiene il tema della cittadinanza e della sua partecipazione. Però, ci si dimentica troppo spesso, e state sicuri che noi non lo faremo, che ci sono temi che attraversano trasversalmente questi capitoli. E questi temi sono il tema del lavoro e dell'occupazione, specie per i giovani, quindi anche il tema dell'intergenerazionalità e dell'intergenere. e il tema della ricerca. Questi temi attraversano tutti e quattro i luoghi di lavoro. Vi spiego come si svolgerà il lavoro da qui in poi, sarò brevissimo. Oggi siete al primo forum, siete alla prima apertura pubblica, alla prima presentazione al pubblico di questo processo. Il forum è la grande assemblea cittadina. Oggi avevamo bisogno di parlarvi, di lanciare sfide, e avete risposto in maniera, devo dire, straordinaria. Voi, e devo dire anche tutti i discorsi che mi hanno preceduto, sono trovati, non potevo immaginare, come dire, una giornata migliore. Il secondo e il terzo forum, ne faremo tre, saranno diversi. Lasciate che ci arrivi spiegandovi in realtà quale sarà il lavoro vero, quello di progettazione. Perché da metà aprile, posso già dirvi che il primo tavolo partirà il 19 aprile, sarà il tavolo dedicato alla cultura. Mi piace dare una risposta al volo, al professor Sacco. In questo territorio la partecipazione culturale c'è, si sente. Abbiamo avuto, avevamo l'altro giorno, oggi sono aumentati, mi sembra, se non sbaglio, oltre 120 iscrizioni a quel tavolo. Allora dicevo, lasciate che vi racconti dei forum, passando per i tavoli di progettazione. I tavoli di progettazione sono il luogo del lavoro vero. E il lavoro vero si svolge in due fasi. La prima è una fase di analisi e di agnosi. Alle prime riunioni di analisi e di agnosi, che si terranno in plenaria, parteciperanno all'apertura, al varo dei lavori, i presidenti del Comitato Promotore Bologna 2021, la Presidente Draghetti e il Sindaco Merro. e presenzieranno, non soltanto per lanciare la bottiglia contro lo scafo della nave, ma presenzieranno perché loro porteranno a quei tavoli la loro visione rispetto ai temi, oggetti di discussione. Posizione, immagine, idea, visione, che troverà confronto con quelli che sono intanto i report di ricerca che noi abbiamo commissionato a esperti molto importanti che conoscono questa città. Paragrafo per paragrafo, non capitolo per capitolo. Ognuno di quei dodici paragrafi ha un report di ricerca che ci darà, potete immaginarlo, anche uno specchio, una narrazione di Bologna straordinaria, inedita finora. Bene, tra la visione dei presidenti del Comitato Bologna 2021 e, come dire, l'analisi, i dati che proverranno dai report, i tavoli saranno chiamati a disegnare una visione del futuro. La vorrei dire così. Saranno chiamati non soltanto a dire parole d'ordine generica, in questo caso non ti seguo Fabrizio, non vado per parole chiave, perché tutti vogliamo una città sostenibile, solidale, connessa. Saranno chiamati, vorrei dire, a scrivere le priorità, perché dire qual è l'ordine di priorità significa già fare scelte e significa anche dare un tempo di lavoro e un modo di lavoro. Significa non declinare soltanto per slogan ma anche per strade da percorrere. Fatta questa parte, definite queste priorità, partirà la seconda fase dei lavori. La seconda fase dei lavori è quella veramente progettuale e qui i tavoli non saranno più in forma unitare, non saranno più compatti. I tavoli si articoleranno. Ognuno dei tavoli è preseduto, no meglio, coordinato da un membro del comitato scientifico e da un membro del collegio tecnico. Quindi diciamo da uno studioso e da un dirigente. Bene, starà a queste persone la capacità di saper articolare i lavori successivi per ambiti, per oggetti, per priorità, per sfide. L'altro giorno, durante una discussione con la giunta provinciale, emergeva il tema dell'Appennino. Vero Assessore? Ho visto poco fa. Si può pensare a un tavolo che se c'è progettazione sulla montagna di questo territorio sia dedicato all'Appennino. Non abbiamo rigidità. E' qui che si manifesta il fatto che noi non abbiamo idee di semplificare la complessità della sfida. Andremo a leggere quali sono le proposte che arriveranno sui tavoli e le articoleremo in ragione di quella che è la razza di organizzazione. Ci sono un altro paio di regole, qui sì, sui tavoli che vi devo dire. Ai tavoli non si partecipa in forma individuale, ma soltanto in forma associata, quindi naturalmente le istituzioni, le imprese e i cittadini organizzati in qualunque altra forma. La partecipazione individuale viene valutata caso per caso dal comitato scientifico. Devo dirvi che finora credo che le iscrizioni individuali siano quattro, quindi un fenomeno non particolarmente rilevante. Secondo, a quei tavoli non esiste il potere di veto, esiste solo il potere di controproposta costruttiva. Penso di non dover commentare la correttezza di questa scelta. E un'altra regola, il coordinatore del tavolo prima della fine della progettazione, almeno una volta, deve presentare i lavori che si stanno facendo alla cittadinanza. Come vedete, un processo trasparente. Che cosa succede? Che alla fine della progettazione, questo complesso di idee, di grandi progetti, di progetti più piccoli, più circoscritti, costituiranno, diciamo, la prima bozza del piano strategico. Questa bozza verrà discussa nel prossimo forum, quello che porterà il 2 nel cerchio rosso. Quello sarà un forum di discussione, un forum di confronto, un forum di racconto da parte nostra del lavoro fatto e di ascolto della città. Dopodiché starà al Comitato Scientifico e al Collegio Tecnico redigere questi progetti, questi grandi progetti, in una forma, diciamo, possibile e portare all'approvazione dei membri del Comitato Promotore. A questo punto, terzo forum. Il terzo forum è il forum delle firme. I partecipanti firmano il patto metropolitano. Voglio dire una cosa su questo patto. Firmando non si afferma soltanto che si era presente alla discussione o si sono avvallate certe scelte. Firmando ci si assume la responsabilità di fare ciò che in quel patto è scritto. Perché, vedete, il piano metropolitano non è né una gara di idee, lo diceva molto bene l'altro giorno l'assessore Rizzonerlo, non è un luogo di concertazione. Il piano strategico è la condivisione di un'idea di questa città a cui tutti partecipano e in cui ciascuno si assume le proprie responsabilità e condivide il rischio. Chiudo. Obiettivi e criticità. Ora, non c'è dubbio che gli obiettivi li possiamo, diciamo, immaginare di due tipi. E mi fa piacere dirlo, perché l'abbiamo sempre scritto e molti ci hanno sfidato in questo senso oggi, ma spero che in queste mie parole troveranno risposte. Non c'è dubbio che alla fine del piano strategico noi avremo, ci troveremo davanti, un certo numero di progetti portanti e qualificanti. Qualificanti l'oggi rispetto a un obiettivo determinato e condiviso del domani. Quindi non c'è dubbio che noi chiuderemo il piano strategico e dovremo aprire dei cantieri. Dovremo dare il via a nuove costruzioni, alla realizzazione. Però, è mia convinzione anche che sarà possibile, se i lavori saranno condotti come speriamo, che alla chiusura del piano strategico ci siano risultati immediati. Uno che è stato evocato da tutti oggi. Che su questo territorio ci siano procedure omogenee, ad esempio per aprire un'impresa. O ci sia un comune atteggiamento amministrativo rispetto a quelle che sono le richieste della società. L'hanno detto tutti. E questo non è un comportamento che implica un cantiere. Qui basta fare forse delle modifiche di prassi, più probabilmente delle modifiche normative. Certo, è un lavoro che molti stanno già facendo, la provincia lo sta già facendo per certi ambiti. Però per noi questo è un risultato importante. Ed è un risultato immediato. Poi, ci sono delle criticità. Però visto che siamo al primo forum, e scusatemi ma oggi è un po' la giornata appunto della sfida e della passione, cercherei di raccontarvi delle criticità però cercando di girarle in positivo. E ve le racconto attraverso l'enunciazione di una serie di dicotomie. Una prima dicotomia, una prima criticità, è sicuramente la relazione fra città e territorio. E' una tensione che c'è sul piano strategico. La città ha dei bisogni, ha delle logiche, ha delle dinamiche diverse dal territorio. E il territorio è molto diverso in sé. Allora, se questa è oggi una tensione, perché non possiamo immaginare che uno degli effetti collaterali del piano strategico, secondo quello che ci insegnava Oriol poco fa, non sia quello di avere finalmente, fu fatto 30 anni fa, un esperimento in questo senso dal CNR, di avere effettivamente una geografia reale. Una geografia della disoccupazione, una geografia dei processi, ad esempio del pendoralismo, una geografia dei processi culturali. Perché? Perché con questa geografia a noi è dato scegliere come meglio governare quel processo. Governare il reale, non una geografia immaginaria. Le mappe che abbiamo sono rinascimentali, non disegnano l'effettività delle cose. Un'altra tensione è sicuramente quella, è naturale, lo dice tutta la letteratura scientifica in materia di piani strategici, fra interessi pubblici e interessi privati. O se volete anche fra interessi generali. Allora io dico che se noi siamo riusciti a costruire, a capire quali sono le dimensioni di governo dei processi, il livello intermedio, il livello comunale, il livello subcomunale, noi saremo capaci qui, attraverso il piano strategico, di dare senso per una volta in Italia alla parola sussidiarietà. Perché noi sapremo riscrivere correttamente, alla luce di mappe vere, la governance del territorio. Governance verticale e governance orizzontale. Cioè io voglio immaginare che alla fine del piano strategico, noi insieme alle forze economiche e alle forze sociali, all'associazionismo, sapremo meglio, ognuno di noi sarà più sicuro e più definito del proprio ruolo. E questo è un altro obiettivo che io ho scritto fin dalle prime versioni del piano, sapremo anche creare degli strumenti di collaborazione che superino un antagonismo fra istituzioni, mercato e associazionismo che è obsoleto per tutti gli studiosi che si preoccupano di questa materia. Questi non sono tempi di antagonismi diciamo di posizione, questi sono tempi di sicurezza e determinazione ciascuno del proprio ruolo ma di collaborazione circolare fra tutti gli attori del territorio stesso. E quindi spero anche che il metodo del piano strategico sarà contaminante del modo di fare relazioni fra i soggetti dopo il piano strategico. Infine, e chiudo, non c'è dubbio che l'hanno avvertito molti commentatori, un'altra tensione è quella fra gli interessi strutturati e gli interessi meno strutturati, fra gli interessi più forti e gli interessi più deboli. Guardate, noi non ce li nascondiamo, io se ve ne parlo è perché non ho nessuna paura di affrontare questo tema ed è un tema classico delle pratiche partecipative, io stesso ne ho scritto già qualche anno fa. La diversità dalla democrazia rappresentativa, e nella democrazia rappresentativa tutti valiamo uno, nella democrazia partecipativa no. Valiamo per quello che sappiamo, per quello che sappiamo fare, per come sappiamo essere ai tavoli, per ciò che siamo prima di essere ai tavoli. Bene, cogliamo anche questo come una sfida. Di nuovo lo cito il professor Sacco, rete e competenza. Noi sappiamo benissimo che ci saranno grandi progetti su cui solo alcuni potranno partecipare, ma noi sceglieremo e sceglieremo sulla base della coerenza dei progetti e della loro qualità. Non ci sarà una distinzione in questo senso fra progetti forti e progetti deboli. Certo, i progetti forti sono quelli che attirano come un magnete quelli più piccoli che ci conducono alla visione del futuro che abbiamo, ma noi sapremo distinguere in base alla qualità della creatività che abbiamo trovato su questo territorio. Lo voglio dire in questo modo, noi non cerchiamo omologazione rispetto a soluzioni, cerchiamo integrazioni rispetto a un senso del futuro. Grazie.